Tutto pronto a Carini per la undicesima edizione del Premio Ulisse. Ne parliamo con Antonella Messina, alcamese, presidente della FITA regionale. Siamo appunto all'undicesima edizione del Premio Ulisse. Anche quest'anno si svolgerà la fase finale a Carini all'interno delle serate serene all'Anfiteatro. In collaborazione con l'AFOCA, presidente Peppuccio Pecoraro, che sta facendo veramente un buon lavoro affinché il teatro, quest'Anfiteatro, diventi un polo culturale e di riunione di famiglie che vogliono stare serenamente all'aperto, ma guardando le varie commedie che... Come si articola il Premio e quali sono i contenuti? Perfetto. Allora, intanto le cinque finaliste sono state scelte da una giuria, Bianca Catanzaro, Maurizio Vitale e Dario Scarpati. Hanno scelto fra tante associazioni che hanno partecipato, appunto, le cinque finaliste. Iniziamo con una commedia con la compagnia Teatro Stabile dei Nomadi, con un chat a due piazzi e appunto inizierà questo venerdì 19. Perché vogliamo promuovere? Perché diciamo che vale la pena, perché il nostro, in qualche modo è la nostra missione quella di diffondere appunto la cultura teatrale e quindi vale la pena portare anche i ragazzi a teatro per essere educati al bello, che il bello non è soltanto un quadro artistico, ma è anche un teatro pieno, un anfiteatro pieno e quindi siamo contenti di questo. Tu sei presente alla FITA, la Federazione Italiana del Teatro Amatoriale, ma oggi molte compagnie, per esempio il Piccolo Teatro di Alcamo, hanno raggiunto una grande professionalità. Sì, sì, è vero, è vero. Diciamo che la federazione col tempo è cresciuta molto e queste rassegne, questi concorsi servono anche affinché ogni compagnia migliori la propria performance e si confronta con gli altri. Ecco, sono dei concorsi, ma in verità chi vince veramente è proprio il teatro. Questo è quello che voglio sottolineare perché in qualche modo, crescendo insieme, la federazione ormai, diciamo, è cresciuta tantissimo, la federazione italiana del teatro amatori, ha preso per mano tutte le associazioni e le ha introdotte in un mondo molto interessante, ma anche complicato, che è il RUNS, cioè il Registro Nazionale del Terzo Settore. Quanti giorni durerà questa rassegna? Sono due fine settimane, finirà con la serata di premiazione, infatti che si svolgerà sempre lì a Carini in un bellissimo terrazzo preparato ad hoc dalla squadra, io la chiamo squadra perché è l'unione di tutti, quindi Peppuccio Pecoraro, la sua squadra, i ragazzi dell'Associazione Afoca, che vengono proprio formati da Peppuccio, che è il presidente dell'Afoca. Quindi si svolgerà il 28 questa serata magnifica di premiazione, diciamo. C'è da dire questo, che il vincitore del premio Lisse andrà di diritto al Gran Premio Teatro Amatoriale, che è, diciamo, l'evento di punta della fita nazionale.